Legumi, cereali, frutta secca. Ce ne sono molte altre, ma quali sono le migliori fonti di proteine vegane? Lo scopriamo in questa nuova puntata dei Segreti degli Alimenti. Un saluto da Simone, vostro nutrizionista allenatore. La domanda dei consumatori di proteine di origine vegetali è in costante crescita e si prevede che aumenterà nei prossimi 10 anni. Ma perché? Perché ci sono benefici per la salute, perché c'è più preoccupazione riguardante l'utilizzo di proteine derivanti da fonti animali, per una miglior sostenibilità del pianeta a livello ambientale, per una questione etica riguardante il trattamento riservato agli animali e anche perché le proteine vengono viste come un nutriente positivo, specialmente negli ultimi anni, per cui vale il concetto di più e meglio. Le proteine sono un pochino come i bicipiti per gli esercizi in palestra, l'unico gruppo che abbia senso allenare. Attenzione, grazie ai carboidrati sono comunque importantissimi, però le proteine di più. E quindi dividendo gli alimenti per categorie, per cui abbiamo legumi, vegetali, semi e cereali, ho inserito in questa classifica dei cibi che secondo me sono estremamente sottovalutati. Sesto posto dicevamo il farro. Farro estremamente sottovalutato perché noi sempre riso, pasta, pasta, riso, riso, pasta, dopo un po' basta. Il farro appartiene insieme ad altri cereali ad una categoria nota come i grani antichi. Che cos'hanno questi grani antichi? Sembrerebbero avere più sostanze bioattive che sono benefiche per l'uomo rispetto al grano non sia tenero che duro. Inoltre il farro ha ben circa 15 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Estremamente sottovalutato. Al quinto posto troviamo la soia. Ne ho già parlato abbondantemente, non voglio ripetere tutti i benefici che ci può dare la soia. Ricordiamoci però che è una fonte di proteine completa. Vi voglio parlare di tre forme in particolare. Il tofu, che è un pochino il formaggio povero di proteine rispetto agli edamame, che sono i fagioli della soia, e ad una preparazione che si utilizza un pochino meno, che è il tempeh, che è un pochino più alto in proteine. Generalmente questi tre prodotti variano tra un contenuto di 10 fino ai 20 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. E Massimo, il tofu non sa di niente. Va bene, può anche essere vero che il tofu non sia così saporito, ma ha la capacità di assorbire facilmente i sapori dei prodotti con cui viene preparato. Inoltre gli edamame sono ricchi di fibre, folati e vitamina K. Al numero 4 c'è un alimento estremamente sottovalutato. Vengono definite il cibo dei poveri perché sono economiche, ma vedremo che in realtà sono un cibo da ricchi, da re, sono le lenticchie. Con i loro circa 25 grammi su 100 grammi di prodotto crudo chiaramente, le lenticchie rappresentano un alimento eccezionale che non dovrebbe mancare nella tua dieta. Questo anche perché oltre ad essere ricchi di fibre e vitamine hanno anche tantissime proprietà, sentite bene quali, antidiabetico, antiossidante, antiobesità, antimicrobico e cardioprotettivo. Inoltre costano anche poco, per cui non vede il motivo per non inserire le lenticchie nella nostra alimentazione. Fondamentali. Al terzo posto abbiamo due categorie di semi. In primo luogo quelli che i messicani chiamano pepitas, i semi di zucca, che hanno addirittura 28 grammi di proteine circa su 100 grammi di prodotto. Inoltre i semi di zucca hanno tantissime proprietà benefiche perché è stato dimostrato che possono avere un effetto antidiabetico, antiossidante, antitumorale, citoprotettivo e addirittura antidepressivo. Altra categoria di semi meno conosciuta e sottovalutata sono i semi della canapa. Pensate hanno addirittura 30 grammi di proteine su 100 grammi di prodotto. Uno studio del 2020 condotto dai ricercatori italiani, nello specifico dell'Università della Tuscia, ha dimostrato che le proteine dei semi di canapa hanno un altissimo valore biologico, sono facilmente digeribili e i semi di canapa hanno proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, neuroprotettive, aiutano inoltre a ridurre il colesterolo nel sangue, la colesterolemia, ed abbassano la pressione arteriosa. Attenzione però, i semi sono altamente calorici e ricchi di grassi, per cui non prenderne 100 grammi, ne basta una manciata, che daranno quel quantitativo di proteine in più per arrivare alla tua quota giornaliera o del pasto raccomandata. Inoltre possono aiutare a insaporire i nostri piatti. Al numero due abbiamo l'hamburger vegano, il seitan, con circa 25 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Perché viene detto hamburger vegano? Perché la sua texture, la sua consistenza è molto simile a quella della carne. Ma da dove arrivano le proteine del seitan? Arrivano dal glutine, in particolare da questo vital wheat gluten, ossia glutine vitale di grano, che è un prodotto in polvere ad alto tenore proteico di origine vegetale, appunto, che è costituito principalmente da proteine, appunto quelle del glutine, fibra e acqua. Questo vital wheat gluten viene commercializzato nell'industria dei prodotti da forno per essere aggiunto a farine che hanno una debole capacità di panificazione, per cui va ad aumentare le loro proprietà viscoelastiche. Al numero uno, un alimento abbastanza sconosciuto dalle nostre parti, estremamente sottovalutato, che è un'alga. è la spirulina. Pensate che 100 grammi di spirulina in polvere, in genere si trova sotto questa forma, contengono circa dai 55 ai 70 grammi di proteine, per cui aggiungere un paio di cucchiai di spirulina a un nostro qualsiasi piatto può aumentare il quantitativo di proteine di circa 8 grammi. Niente male. Inoltre la spirulina ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antitumorali, abbassa la glicemia, migliora il profilo lipidico, quindi abbassa le LDL, il colesterolo cattivo e alza le HDL, il colesterolo buono, tenendo anche sotto controllo la pressione arteriosa. Un sacco di benefici. Inoltre la spirulina è ricca di vitamina B, ci sono studi che dimostrano che potrebbe integrare la famosa mancanza di vitamina B12 nei soggetti vegani, anche se altre alghe sembrerebbero aver preso il sopravvento a questo punto di vista. Comunque va da spirulina un supplemento, comunque un alimento validissimo, specialmente in una dieta vegana. E allora anche oggi se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, molto male se non l'hai ancora fatto. Clicca la campanella per ricevere tutte le notifiche e noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata dei segreti degli alimenti. Saluti!